In questo momento di grave emergenza per la presenza del coronavirus, la Fondazione Cassa di Risparmio e la Fondazione Solidal non potevano non essere presenti. Hanno sostanziato somme considerevoli per far fronte all'emergenza, ma soprattutto danno la possibilità a chiunque voglia contribuire di versare in un conto corrente le somme necessarie per sostenere i nostri ospedali e le nostre strutture. Io vorrei dire solo questo, non possiamo lasciare soli i medici, gli infermieri e tutti gli operatori che in questo momento si danno un grande affare fino allo estremo delle forze. Non lasciamovi soli, diamogli una mano. Grazie.